Musica Termina la fuga del boss della mafia garganica Marco Raduano, evaso dal carcere di Nuoro il 24 febbraio dello scorso anno, calandosi dal muro di cinta del penitenziario con una corda di lenzuola annodate, mentre stava scontando una condanna definitiva a 19 anni per traffico di droga, e del suo braccio destro Gianluigi Troiano, latitante dalla fine del 2021, quando evaso dagli arresti domiciliari che stava scontando con l'applicazione del braccialetto elettronico a Campomarino, in provincia di Campobasso. Grazie alle complesse indagini portate avanti dal gruppo dei carabinieri del ROS, lo stesso che ha catturato il boss Matteo Messina Denaro, e alle attività di pedinamento della UNITAD, centrale operativa della Guardia Civil Spagnola e della Gendarmeria Francese, Raduano è stato arrestato l'1 febbraio a Bastia, in Corsica, mentre si stava recando in un ristorante di lusso del luogo, mentre Troiano è stato catturato il pomeriggio prima nella città di Granada, per strada, per evitare i pericoli. Entrambi erano soli e non armati. Raduano e Troiano sono stati entrambi condannati per l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, aggravata dal metodo mafioso. Troiano era stato condannato a nove anni e due mesi di reclusione all'interdizione perpetua dai pubblici uffici nell'ambito del processo denominato Neve di Marzo, l'operazione che nel 2019 smantellò il clan Raduano. Il boss Marco Raduano è attualmente imputato in corso il processo per l'omicidio di Giuseppe Silvestri a Monte Sant'Angelo il 21 marzo 2017 e per l'omicidio di Omar Trotta a Vieste il 27 luglio del 2017. Per quest'ultimo delitto è imputato in concorso anche Gianluigi Troiano.